È un Avezzano che vince e convince quello che fa suo il derby contro il Real Giulianova nel turno preliminare della Coppa Italia di Serie D. Applausi scroscianti per la formazione di Mecomonaco che intasca la qualificazione al cospetto di un Giulianova ancora in rodaggio, penalizzato dalla papera di Bifulco che ha spianato di fatto la strada al successo bianco-verde. Per la prima in assoluto sulla panchina marzicana, Mecomonaco schiera i suoi con un 4-3-3 in cui Gaeta è il terminale offensivo assistito dalle inventive di Franchi e Cancelli sulle fasce. In mediana regia affidata ai piedi di De Angelis con Traditi e Di Giacomo ad agire sulle mezzali. Schieramento a specchio per Pascucci che in avanti si affida al tridente Suriano, Fioretti e Balafante gettato subito nella mischia l'ultimo arrivato Ramcu, centrocampista appena prelevato dal Morro d'Oro. In avvio è l'Avezzano a farsi preferire. Al quarto ci prova Di Giacomo dal limite, conclusione strozzata in out. Cinque minuti dopo i bianco-verdi provano a sfondare da corner. Magri svetta più in alto di tutti, palla alta sopra lo specchio. Al diciassettesimo primo squillo Giuliese, Dolce carica il tiro da fuori, fendente, potente ma poco preciso. Sessanta secondi dopo iniziativa di Suriano, Fanti non trattiene, prima che Fioretti venga fermato in fuorigioco. Al ventesimo passa l'Avezzano, Franchi sfonda sulla fascia e mette in mezzo d'esterno, bifulco e goffo nell'intervento e spinge la palla in rete per l'1-0. Sei minuti più tardi i bianco-verdi completano l'1-2 micidiale, pennellata di Gaeta su punizione che fa esplodere la nord. Primo centro in Maglia-Vezzano per il bomber Scuola Milan. È partita in ghiaccio. Non si placa il forcing dei padroni di casa, spinti da un pubblico, quasi da grandi occasioni. Al ventinovesimo è ancora magri a rendersi pericoloso su calcio d'angolo, ma l'incornata dell'ex campo basso lambisce soltanto il palo. Al trentanovesimo mischia in area giuliese, ci provano prima Gaeta, poi Magri, ma bifulco si riscatta ed evita il tris. Nel finale di tempo segnali di vita dal Giulianova, spunto di Balafante che serve un pallone al bacio nel cuore dell'aria. In colpevole ritardo gli avanti giallorossi è occasione che svanisce in out. In avvio di ripresa è ancora Balafante, il più intraprendente tra i suoi. All'ottavo dribbling e tiro a giro del sette. Fanti sporca i guantoni e risponde presente. 60 secondi arriva la replica dell'Avezzano, Cancelli appoggia per Franchi, controllo e scarico di prima intenzione, sfera di poco a lato. Al tredicesimo il Giulianova rischia di accorciare le distanze, Fioretti ci prova da posizione impossibile, conclusione che c'entra in pieno il palo. Al diciassettesimo altra sortita di un ottimo Franchi che si beve mezza difesa ma spedisce sul fondo a tu per tu con bifulco. A ridosso della mezz'ora inizia la girandola dei cambi, Mecomonaco fa esordire Sigari Peccancelli e risporvera Crass per traditi, Pascucci inserisce Di Giuseppe per Ramcu. Al venticinquesimo altra offensiva a Giuliese, Fioretti scappa via sul filo del fuorigioco, conclusione sterile che non impenserisce Fanti. Sui titoli di coda del match preoccupazione in casa Vezzano per l'infortunio di Franchi uscito dal campo in Barella. Per l'ex Matelica e tutto cuoio dovrebbe trattarsi di un trauma distorsivo al ginocchio ma l'entità dell'infortunio sarà valutata entro le prossime 48 ore. Finisce intanto col successo dell'Avezzano che bagna l'esordio stagionale con una prova di corsa e qualità offrendo uno spettacolo godibile ai tifosi accorsi al Dei Marzi. Ancora lavori in corso sulla sponda a Giulianova con l'organico che verrà completato in settimana in vista dell'esordio in campionato sul campo del neopromosso Porto Sant'Elpidio. L'Avezzano strappa la qualificazione al primo turno dove affronterà domenica prossima al Savini il San Nicolò Notaresco di Roberto Vagnoni. Presidente, dunque una partita che è stata senza dubbio indirizzata dall'infortunio del vostro portiere. Sì, purtroppo dall'esperienza che avevamo avuto in passato con portieri fuori quota abbiamo voluto mettere in porta giocatori esperti e purtroppo oggi Marino ha avuto questo infortunio evidente, è venuto da poco quindi è ancora a corto di preparazione, probabilmente la problematica è stata quella però poi nel secondo tempo si è riscattato, ha fatto due belle uscite, ha fatto due belle parate. La Coppa è questo, ci sta, si vive di episodi in una partita secca e oggi l'episodio del primo gol è stato abbastanza evidente, ci ha penalizzato ma soprattutto non tanto a livello di risultato ma quanto a livello mentale perché oltre ad avere assenze importanti avevamo una condizione fisica ancora precaria per qualche giocatore quindi poi non siamo riusciti ad imporre il nostro gioco, quindi l'Avezzano è stato molto bravo, ha fatto la sua partita ha trovato il secondo gol su punizione, quindi è giusto che passi il turno l'Avezzano Senta, in vista della prossima stagione, del prossimo campionato, il mercato del Gironova si può dire ancora aperto? Sì, sì, il mercato del Gironova è aperto, lo abbiamo detto, lo stiamo facendo con culatezza adesso in settimana arriveranno altri giocatori, sia under che over quindi rinforzeremo la rosa per quello che serve per fare un campionato tranquillo dove possiamo salvarci il prima possibile Dunque conferma che l'obiettivo è quello di una salvezza più tranquilla rispetto a quella della scorsa stagione? Sì, sì, sicuramente, l'obiettivo del Gironova in questo momento è questo, perché giochiamo in uno stadio che a norma già poco su un terreno di gioco in condizioni pessime in questo momento, quindi pensare di poter fare la Serie C a Gironova in questo momento è impensabile la verità è questa, non abbiamo strutture e quindi dobbiamo fare al meglio questo campionato quindi ci dobbiamo salvare il prima possibile e poi far divertire il più possibile i nostri tifosi Mister, dunque una prestazione convincente, è arrivata anche una vittoria, esordio migliore non poteva esserci per lei allo Stadio dei Marzi? Assolutamente sì, devo fare i complimenti ai ragazzi perché lo sappiamo tutti che siamo partiti un po' in ritardo la squadra è in costruzione ancora, però devo fare i complimenti ai ragazzi perché sicuramente sotto l'aspetto dell'impegno della voglia di voler ottenere il risultato l'hanno cercato sempre, quindi complimenti a loro perché sono loro gli artefici Una prestazione incoraggiante sia da un punto di vista tecnico ma anche soprattutto da un punto di vista atletico il che è molto importante visto che la stagione ancora non è iniziata Sì, io sono molto contento soprattutto per i ragazzi perché i ragazzi hanno lavorato tantissimo hanno avuto solo due mezza giornate di riposo Sono convinto che questa squadra può migliorare tantissimo perché abbiamo tanti giovani di valore dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché non abbiamo fatto niente, siamo all'inizio, il calcio d'agosto conta poco però vincere fa bene, sono contento soprattutto per i ragazzi, per la società, per tutti per tutti quelli che lavorano dietro le quinte che sono molto importanti Senta, forse l'unico nero della serata è stato l'infortunio di Franchi, come sta il giocatore? Spero che non sia nulla, è un giocatore importante per noi, lo sapevamo, l'abbiamo voluto fortemente quindi spero che non sia nulla, non mi sembra una cosa grave al momento Il mercato è ancora aperto o si può dire chiuso? Il mercato, io penso al campo, il mercato lo fanno gli altri certo che si arriva qualche giocatore perché forse numericamente la rosa è corta, è meglio per tutti Grazie 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 Grazie